Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete sul tavolo abbiamo da una parte gli scarpa ribelle e dall'altra degli la sportiva a equilibrium. Questo perché andremo a confrontarli, andremo a capire quali sono le differenze. Ma iniziamo col video. Prima di iniziare con le differenze, vediamo di capire un attimo quali modelli di equilibrium e ribelle esistono. Possiamo suddividerli principalmente in due categorie, quelli con tomaia in pelle e con tomaia sintetica. Per la tomaia in pelle per scarpa abbiamo il ribelle HD, per la sportiva abbiamo l'equilibrium LT che hanno un peso rispettivamente di 695 grammi di scarpa e 640 grammi di equilibrium, quindi 55 grammi di differenza. Per quanto riguarda invece la tomaia in materia sintetica, lato scarpa abbiamo il ribelle light e lato sportivo abbiamo l'equilibrium ST. Peso dei light di scarpa 655, peso dell'equilibrium ST 630, quindi in questo caso abbiamo 25 grammi di differenza. Adesso che abbiamo visto i modelli di entrambe le case, ne abbiamo visti i pesi, possiamo vedere le differenze nei vari comparti, iniziando dalla suola. Suola tutte e due di casa Vibram, ma troviamo due soli completamente diverse. Una è la Vibram mount per scarpa, una è la spring lug tech degli equilibrium, due suole che hanno un'ideologia abbastanza diversa. Lato scarpa troviamo una suola molto classica, una suola con un ottimo grip, una suola che davvero troviamo su tanti tipi di scarponi, nulla di eccezionale, nulla di nuovo. Una suola, come dire, che si va sul classico e il classico che però promette bene. Lato equilibrium troviamo una suola completamente nuova, con tutta la parte del double heel del posteriore sul tallone, che garantisce un'ottima camminabilità, tutta una forma rocker anche molto accentuata, che veramente favorisce molto la rullata del piede. E questo in soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che sugli scarpa troviamo una suola che va bene su terreni proprio tecnici. Cioè, se andiamo su roccia, se andiamo su ghiacciaio, su piedi misto, lì dà il meglio di sé. Tutto quello che invece è avvicinamento, trekking impegnativi, eccetera, questo scarpone tende a far stancare molto il piede, soprattutto perché la suola davvero non favorisce la rullata. Lato equilibrium. Allora, per quanto riguarda la parte di tecnico, quindi roccia, ghiaccio, misto, eccetera, anche lì va bene. Però ha un plus per quanto riguarda anche il trekking o gli avvicinamenti lunghi. Se dobbiamo andare a fare una via alpinistica in cui magari abbiamo 3-4 ore di avvicinamento di puro trekking, ecco, con l'equilibrium ci stacchiamo molto, molto meno. Questo, come vi dicevo, è garantito da tutta questa geometria studiata dalla sportiva per la loro suola. E già qua abbiamo comunque un bel confronto. Cosa non da poco poi è la durabilità della suola, perché ho notato che le suole di scarpa, in questo caso, sono molto più durature rispetto a quelle utilizzate dalla sportiva. Quando dalla sportiva, nell'arco di qualche uscita, avevo già dei pezzi di gomma che erano saltati via dai tasselli, lato scarpa le utilizzo da molto più tempo e sono ancora quasi perfette. Continuiamo e parliamo di ramponabilità. In questo caso è molto importante parlarne perché, vabbè, gli scarpa praticamente sono uno scarpone classico da questo punto di vista. Suola semi rigida rigida, quindi possiamo montare su praticamente qualsiasi tipo di scarpone universale o semi automatico e andiamo via bene. Per quanto riguarda invece gli equilibrium, fate attenzione perché non tutti i ramponi possono andare bene. La sportiva non dice nulla a riguardo, ma vi assicuro che se avete determinati tipi di ramponi che hanno magari una gabbia anteriore molto piccola, l'avampiede ci entrerà difficilmente. E nella parte posteriore ho visto che anche alcuni tipi di ramponi tendono a saltare via perché hanno il tallone smussato. Quindi se andate a comprarli, il mio consiglio è magari portatevi dietro anche il vostro rampone oppure comprate un rampone in abbinata e guardate che stiano su molto molto bene perché davvero tanti ragazzi mi hanno riportato che camminando con l'equilibrio con certi tipi di ramponi il rampone tende a saltar via. Per quanto riguarda lato Maya, qui c'è molta differenza se scegliete uno scarpone col sintetico e uno scarpone con la pelle. Diciamo che tendenzialmente io ho notato avere più o meno la stessa termicità. Cambia veramente, veramente poco. Forse lato scarpa sono giusto un paio di gradi più termici, però davvero siamo lì. Io se fossi in voi comunque non li prenderei in considerazione per far dell'alpinismo invernale, va bene sulla parte estiva a tre stagioni. Una grossa differenza però la fa la fodera degli scarponi, ovvero sugli scarpa troviamo la membrana H-Dry, sugli equilibri troviamo invece una membrana Gore-Tex. Vi lascio qua in alto a destra il video che ho fatto confronto tra Gore-Tex ed H-Dry per andare ad approfondire. Facendovi un piccolo assunto, gli scarpa vanno molto molto bene se dovete utilizzarli per tante tante ore con il piede all'interno della neve perché H-Dry farà sì che lo scarpone non si vada a inzuppare, mantenga la traspirabilità e non aumenti di peso. Gli equilibrium invece col Gore-Tex se andate per tante ore dentro la neve tenderanno a inzupparsi, tenderanno ad aumentare di peso e a diminuire la loro traspirabilità. Come vi dicevo, sunto molto veloce e se volete vedere il video ve lo lascio anche in descrizione. Possiamo parlare dell'allacciatura. Allora, l'allacciatura è abbastanza simile. Io ho trovato un pochino più fasciante gli scarpa, quindi diciamo si riescono a tirare un pochino meglio avere una fasciatura un pochino più attorno al piede, mentre gli equilibrium avendo un pochino più di materiale la lacciatura rimane un pochino più larga. Quindi diciamo che tendenzialmente ho trovato che lo scarpa veste un pochino più fasciante rispetto agli equilibrium. Questo poi naturalmente sta anche in base alla grandezza del nostro piede, quindi è una cosa anche un pochino soggettiva. A livello di tallone e parte superiore dell'allacciatura, allora, gli scarpa presentano una parte superiore molto classica, con una linguetta molto imbottita, che comunque, cioè, lavora bene, però nulla di rivoluzionario. Per quanto riguarda invece l'equilibrium, troviamo una linguetta molto minimal, molto sottile, questo fa sì che riusciamo a chiudere molto bene lo scarpone attorno al nostro piede. Se sugli scarpa magari resta un pochino di spazio, e quindi anche serrando molto, magari il collo del piede potrebbe muoversi di qualche millimetro sull'equilibrium, questo non succede. Quindi davvero l'allacciatura dell'equilibrium l'ho trovata molto più precisa e fasciante nella parte superiore rispetto a quella di scarpa. Passiamo a parlare della parte forse più importante, ovvero la calzata, come calzano. Allora, io ho provato di entrambi i modelli il numero 47, il mio numero. Quindi diciamo che non ho avuto problemi di grandezza diversa di scarpone. Per quanto riguarda la grandezza in sé dell'avampiede, secondo me sono molto simili. Come vi dicevo nella recensione, con questo equilibrium la sportiva ha fatto un avampiede un pochino più grosso rispetto al modello di trango di cui eravamo abituati, con una fasciatura molto stretta. Quindi proprio a livello di grandezza dell'avampiede, proprio di millimetri, sono abbastanza uguali davvero, forse balla un millimetro. Quello che cambia, come vi dicevo prima, è la parte superiore della tomaia, ovvero che gli equilibrium salgono molto più diretti, quindi hanno una zona dell'avampiede molto più grossa, dove il piede sta molto più largo. Questo vuol dire che se avete un piede bello bombato, bello cicciottello nella parte dell'avampiede, sul collo del piede, naturalmente, probabilmente nell'equilibrium starete meglio. Su gli scarpa, invece, avendo una tomaia che va a chiudersi molto prima, quindi che va a tagliare qualche millimetro, se avete un piede un po' cicciottello, un po' grossino, diciamo che sarà sicuramente una calzatura molto più fasciante. Potete risolvere sul consiglio di scarpa prendendo una mezza taglia in più, perché in quel caso questa fasciatura si sente un pochino meno. Mi raccomando, mezza taglia non di più, però davvero, secondo me, in soldoni, a livello di grandezza dell'avampiede siamo lì, però ho trovato gli scarpa più fascianti e gli equilibrium con un pochino più di spazio sul collo del piede. Infine, dove è meglio utilizzare i ribelli e dove è meglio utilizzare gli equilibrium? Allora, come vi dicevo, secondo me gli equilibrium sono degli scarponi tendenzialmente proprio pensati per il tecnico. Quindi, se pensate di, faccio un esempio, fare un 4000 estivo, quindi prendo la funivia, vado a 3000-3500 metri, da lì parte la parte tecnica, allora queste scarpa possono andare molto molto bene, soprattutto secondo me possono andare molto bene anche su tante ore col rampone. mentre se avete un avvicinamento lungo da fare, quindi magari non avete la funivia ma dovete farvi un tre ore passa di trekking, un esempio, se dovete andare sul Gran Paradiso forse allora è meglio utilizzare degli equilibrium che, facendo queste tre ore di trekking, tenderanno molto meno a stancarvi il piede. A livello di prezzo, diciamo che più o meno siamo lì. Online lì si trova con la differenza di un 20-30 euro, poi vale molto anche gli sconti che ci sono in giro, quindi diciamo che confrontare i prezzi è un po' difficile perché davvero ci sono tanti sconti riservati a questi due tipi di scarponi e un giorno magari si paga meno uno, un giorno si paga meno l'altro. Quindi confrontare il prezzo in questo caso è un po' difficile. Detto ciò ragazzi, io nella speranza di avervi aiutato a scegliere tra i ribelle e l'equilibrium e vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!